Probabilmente la parola che sto per dirvi vi farà capire che siete dei veri e propri giocatori di Fortnite Siete pronti? 3, 2, 1, BUNKER Esatto, un vero giocatore di Fortnite è infissa con la parola BUNKER da praticamente la season 4 di più di un anno fa Questo perché Fortnite ha sempre tenuto questa tensione, questo mistero intorno ai bunker che ci sono in giro per la mappa Ebbene sì, dovete sapere che anche in questa stagione 3 i bunker della mappa di Fortnite sono davvero tantissimi Solo che sono nascosti e nascondono anche con sé dei segreti a dir poco spaventosi Guardate il video fino alla fine perché oggi resterete a bocca aperta Ma soprattutto ricordatevi di andare nel negozio oggetti e di supportare Matiz come creatore Vi basterà andare in basso a destra, scrivere Matiz, premere accetta e taggatemi anche su Instagram quando shoppate con il mio codice E mi raccomando vi guardo tutti Oggi ci tengo a fare un saluto a tutte le persone che si chiamano Roberto e che mi supportano su Fortnite Scrivetemi come vi chiamate nei commenti Allora, la prima zona in cui sto andando da come vedete è quella di fianco corso commercio E ho messo il pingo qua anche se devo essere sincero Non mi ricordo se esattamente in quel punto Però lo troveremo, fidatevi di me L'unico problema è che è ben nascosto da un cespuglio Di conseguenza bisogna stare molto attenti A che se in realtà basterà trovare il cespuglio, spaccarlo e trovare il bunker Sì La cosa assurda di questa season di Fortnite è che molti bunker invece li trovate proprio sott'acqua Esatto, dato che è la season ovviamente dell'acqua Blu 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 Non so cosa significa sto blu 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 Però lasciate like solo per questo L'epic ha deciso di creare ancora più misterio quindi puff Ecco qui che ci mette i bunker anche dentro l'acqua Comunque da come previsto io qua non vedo cespugli Oh oh C'è cespugli Forse è più sotto, forse devo andare più giù Aspetta Oh 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 Fermi che ho appena visto un cespuglio Fermi che l'ho appena visto un bel cespuglio Allora togliamo di mezzo sto albero E aspettate un attimo perché credo proprio che abbiamo trovato il primo bunker di oggi E fidatevi che non sarà l'ultimo Spacchiamo questo cespuglio e Boom Date il benvenuto a un nuovo punto di riferimento Punto interrogativi Due punti interrogativi Non so se li avete visti Questo sta a significare che Fortnite non ci dà assolutamente nessuna info riguardante questi bunker Non so se ve lo ricordate ma nella season 5 se non sbaglio del capitolo 1 di Fortnite Alcuni bunker si erano aperti e andando sotto c'era tipo un laboratorio misterioso delle fenditure Le fenditure erano quei teletrasporti che tu ti ci buttavi dentro e ti teletrasportavano in giro per la mappa Mentre stavolta i bunker non li aprono mai Non ci sono non servono a niente io non capisco se questi cosi sono un troll oppure no scrivetemi la vostra nei commenti Magari nella season 4 finalmente sti bunker avranno un significato Anche perché c'è un altro bunker anzi un'altra zona ancora più strana inquietante Che è molto più grande di questa ed è quella che adesso andremo a vedere insieme State iniziando a riconoscere il posto di cui vi sto parlando vero eccolo qui eccolo qui Questo è molto più famoso ce l'abbiamo già dalla season 2 se non dalla season 1 non me lo ricordo Comunque nella season scorsa c'era ed è questa zona che sembra militare una zona militare davvero davvero spaventosa E questo punto di riferimento si chiama top secret In basso a destra quando entri qui c'è scritto asterisco asterisco top secret asterisco asterisco Cioè davvero non capisco per quale motivo in questa mappa fortnite sta nascondendo davvero di tutto Io spero che prima o poi però venga tutto a galla come come l'acqua che sta Vabbè no questa battuta forse è meglio non farla ora che ci penso Però basta cioè ci mettono i punti interrogativi ci mettono gli asterischi top secret non ce la faccio più Qui entrando abbiamo proprio una zona che sembra quella dell'entrata dell'area 51 non so se l'avete mai vista Avete due sbarre che non vi dovrebbero fare entrare ma dato che siamo su fortnite ci basta fare ecco in questo modo E poi cosa c'è scritto qua Tlolangi Tlolangi Aspettate guardate Tlolangi Tlolangi Boh sinceramente non ho idea di cosa sia E potrei provare a cercarlo su internet ora che ci penso Tlolangi Tlolangi Aspettate un attimo eh Cuccioli di cani animali carini Pingi Lol nomi Controllo angi Tlolol Cento Ok Penso proprio che non c'entri niente con un nome e google non mi è di aiuto Entrando in questa stanza invece che la cabina di controllo abbiamo un semplicissimo computer con un po' rovinato Spento quindi basta spacchiamo tutto E poi invece proseguendo qui si entra nella parte appunto misteriosa Qui c'è addirittura una macchina che sta entrando esatto avete visto bene Andiamo 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 avanti Abbiamo qui delle casse un po' strane abbiamo una porta dove dopo entreremo Comunque cose che non si capisce benissimo e poi boom Arriviamo a questa porta gigante da dove potrebbe uscirci benissimo un carro armato gigantesco Non lo so un transformer di tutto e di più che è sempre chiusa non si è mai aperta Fortnite se stai guardando questo video apri sta cavolo di porta E niente neanche se gli lancio un medikit ovviamente funziona Niente da fare questo è forse il più grande mistero di Fortnite Proprio perché Fortnite non l'ha nascosto Ti ha detto senti io te lo metto qua vicino gatto grill e tu non c'entrerai mai Starei così per tutto il tempo Entrando per questa porta invece arriviamo in una stanza così completamente vuota Cioè anche questa non ha un minimo di senso e qui sopra io sento il rumore di una cassa Quindi se spacco ok mi dà una cassa Anche questa zona capite non ha minimamente senso Qui ci sono luci accese possiamo spaccare Se andiamo sotto c'è semplicemente il terreno quindi non possiamo andare da nessuna parte E se sa... Mi ha costruito una scala? Aspetta un attimo Perché mi ha fatto costruire una scala? Ok questa cosa è abbastanza misteriosa ma vabbè Comunque niente qui è tutto totalmente bloccato Io direi adesso però di passare al prossimo bunker Questa zona è davvero molto strana Per il prossimo bunker ci dobbiamo questa volta spostare sott'acqua Di conseguenza ho preso il mio drone perché se no non ci possiamo assolutamente arrivare Oh mio caro drone che bella questa mappa di Fortnite Chi se lo sarebbe mai immaginato che ci sono più segreti qui che nella vita reale Da come vedete mi sto spostando verso la zona dello yacht Oh wow ma questo coso è bellissimo Ok vabbè non ci interessa adesso Mi sto spostando nella zona dello yacht perché il prossimo bunker si trova esattamente sott'acqua verso lo yacht Iniziamo a spostarci qui sotto guardate 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 boom Ora io mi allontano leggermente e l'abbiamo già trovato Sì è molto semplice semplicemente perché appunto riuscirete a vedere il tetto del bunker fuori dall'acqua esattamente qui Vi faccio vedere anche nella mappa che non me lo fa minimamente Ok vabbè comunque ecco quello yacht se volete andarci E questa zona tra l'altro sta salendo anche abbastanza velocemente con gli aggiornamenti di Fortnite Di conseguenza penso che nel prossimo aggiornamento ora che noi stiamo andando sott'acqua invece potremmo arrivarci senza andare Sott'acqua appunto quante volte sto dicendo sott'acqua in questo video però ho Fortnite stagione dell'acqua mi sembra giusto no Quindi spostiamoci sotto andiamo qui da come vedete è una zona piena di legno piena di cose Qua ci sono delle cassette delle scatole e il problema è che l'entrata sotterranea è coperta da delle pietre Semplicemente perché entrando boom guardate un po' qua che cosa c'è Cucu vi era mancato eh dite la verità coraggio E a di poco assurdo basta non ce la faccio più E' davvero impossibile non è non può funzionare così forte Non può essere che in ogni zona ci sono dei bunker soprattutto tra l'altro è stata scoperta una cosa assurda riguardante dei bunker Che messi insieme nella mappa vanno a formare appunto una forma geometrica Che dopo andremo a vedere insieme Considerate che questo bunker è un appunto è un punto della forma Andando semplicemente dall'alto voi entrerete qui ci sarà un sacco a pelo Una chest quindi qualcuno ci vive effettivamente qua dentro ma sotto boom non si può accedere in nessun modo Posso provare ad andare attraverso qui niente le ventole non ci fanno andare Nessuna parte si bugga per farci entrare dentro e farci scoprire che cosa c'è Questa volta Fortnite è stata davvero brava Comunque che dire questa situazione fa davvero tanto paura Andiamoci a spostare adesso verso la parte in basso a destra della mappa Che non ce la fa vedere perché forse dal drone non la fa vedere non lo so Un altro bunker si dovrebbe riuscire a trovare in questa zona qui Esattamente dove ci sono queste 4-5 pietre che salgono verso l'acqua Praticamente nella zona avanti alla fortiglia Eccola qui Scendiamo sotto Immergiamoci in acqua Devo dirvi la verità non mi ricordo dove si trova il bunker in questo caso Forse nel cespuglio anche questo non vorrei dire una cavolata Vediamo No niente bunker qui Aspettate un secondo Aspetta aspetta non ve lo ricordo più Oh no no non posso dimenticarvelo Aspettate un attimo Eh bunker Dove sei? Sei l'ultimo bunker che mi permetterà di completare la forma geometrica Quindi per favore fatti trovare subito grazie Dai non ci credo Non lo fa vedere più Per quale motivo questa zona è troppo buia Prima dell'aggiornamento di fortnite con l'acqua C'era un bunker anche in questa zona Solo che probabilmente è scomparso Non lo so non lo riesco a trovare più E questo è l'ultimo bunker che vi consente di arrivare alla forma geometrica Io adesso vado verso questa elica Verso questa No no vedete non c'è più è scomparso Non so se l'hanno tolto oppure sta così tanto lontano o sott'acqua che Che mi sono buggato probabilmente Aiuto fatemi salire vi prego Fa paura questa situazione Guardate qui intanto si bugga fortnite in modi incredibili Comunque niente In questa zona dovrebbe esserci nascosto un altro bunker Un altro bunker nella roccia Soltanto che è a dir poco scomparso Non lo trovo più E questo è il terzo bunker tra l'altro Che ci consente di fare una cosa incredibile Ho bisogno però della minimappa E qui non ce la fa vedere Alla fine la mappa la sono riuscito a trovare attraverso google Perché mi si era completamente buggato fortnite Questa è la mappa Adesso facciamo un riassunto dei bunker che siamo andati a vedere Escludendo quello di gattogrill Quello di gattogrill vabbè si trovava qui Quindi non ci interessa molto L'altro che abbiamo trovato invece si trovava in questa zona qui Ve lo ricordate? Questo era il primo in basso a destra Dopo aver visto questo in basso a destra Abbiamo preso il drone e ci siamo spostati allo yacht Esattamente qui Boom Vedete il movimento che sto facendo giusto? Questa traiettoria qui Dopo aver visto quest'altro allo yacht Siamo invece andati in quest'altra zona qui E abbiamo fatto esattamente così Mettiamo insieme i puntini e boom Si va esattamente a formare un triangolo Un vero e proprio triangolo Guardate Boom 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 Sarà significare qualcosa? C'è qualcosa che riguarda triangoli? La season 4 sarà la season dei triangoli? Questo io non lo so So solo che se andiamo a riguardare l'evento della fine della season 2 di Fortnite Quello che ha dato l'inizio alla leggendaria season 3 C'è una cosa molto particolare che dobbiamo andare a vedere Ve la mostro subito perché dovrebbe avere un senso Cioè nel mio cervello il senso ce l'ha Poi sarete voi a confermarmelo Praticamente andando avanti in questo modo Questa zona non ci interessa Noi arriviamo qui In questa parte che probabilmente tutti vi sarete già dimenticati Ma io no Guardate eh Guardate cosa succede ora Allora qui sta caricando Ok Qua il dispositivo torna dentro l'agenzia Ci inizia ad esserci una specie di viaggio Una specie di fenditura Possibile Qualcosa del genere In cui Boom ci porta esattamente qui In una stanza In un mondo parallelo In un mondo che ancora nessuno ha potuto vivere in questo modo Cioè sì Sembra l'autorità forse no Sembra l'agenzia Sembra un ufficio Però ecco Non è che abbiamo avuto tantissime cose chiare Ci hanno spoilerato un po' le skin e basta Questo viaggio però Potrebbe riguardare qualche esperimento Un nuovo mondo Un mondo parallelo Che si può raggiungere magari attraverso qualcosa che stanno costruendo sotto ai bunker Magari dentro questi bunker c'è lo stesso laboratorio della season 5 Che stava lavorando a delle fenditure per teletrasportarci in giro per la mappa Mentre stavolta dentro al laboratorio dei bunker C'è una fenditura ancora più forte che ci fa avere appunto queste visioni di un altro pianeta Allora Magari non sarà così Magari mi sto inventando tutto Ma dai Dite la verità Questa cosa che ho appena detto Ha un senso È geniale È questo perché ovviamente utilizzo il supporto a un creatore mattiz Qui c'è un altro viaggio tra l'altro che viene fatto Guardate Anche la skin default Vestita con lo smoking Ancora non è comparsa nel gioco Io pensavo che la skin default venisse modificata nella season 3 Invece no Questa parte è ancora inesplorata Non lo so Probabilmente ci sarà un collegamento con la prossima season Non ne ho la minima idea So solo dirvi che dobbiamo stare attenti Cioè non è che dobbiamo stare attenti nel senso che qualcuno ci verrà dentro casa con lo smoking Però ecco è una situazione particolarissima vedete Cioè la season 2 si è conclusa proprio con dei viaggi Con delle cose immaginarie Delle visioni Ciao Marco Grazie mille per aver attivato l'abbonamento leggendario di Mattiz Un salutone da Mattiz Trovate l'abbonamento leggendario in descrizione Io direi che per oggi ci possiamo fermare Abbiamo analizzato per bene tutta la situazione bunker Mi sono divertito un sacco a fare questo video Quindi oltre a dirvi che in questo momento compariranno sullo schermo dei video Che sicuramente non avete visto Dove ovviamente potete cliccare e scegliere quello che preferite Così noi ci vediamo anche in quel video Io vi dico anche che se volete altri video, aggiornamenti, news, misteri Lasciate un mi piace perché li porterò molto volentieri Supporto a Creatore Mattiz Dobbiamo arrivare a 250.000 persone che mi supportano E alla prossima Ciao